Il diritto alla salute e ad un lavoro sicuro all'ambiente sono i temi principali della campagna elettorale di articolo 1 che ha organizzato a Taranto un incontro pubblico presso il Maxi con i candidati della lista del centro-sinistra Partito Democratico Italia Progressista. Ospite dell'incontro Pierluigi Lopalco, consigliere regionale ed ex assessore regionale alla sanità e candidato al Senato nella collegia uninominale di Lecce. Presenti all'iniziativa, oltre ai candidati, gli amministratori locali del centro-sinistra Ionico e il subcommissario del PD di Taranto, Anna Filippetti. Taranto è un altro dei nuclei da cui deve ripartire quella che è nata come la primavera pugliese che io con una battuta dico deve diventare l'estate. Devono in qualche modo maturare i frutti di tutto un lavoro che è stato fatto per anni. Taranto da sempre è stato al centro anche della nostra amministrazione regionale come un punto di attenzione particolare. Oggi sono qui ovviamente anche come medico perché parleremo sicuramente di temi di salute e ambiente salute. Oggi sono due temi imprescindibili. Per noi ripartire dal sud e ripartire dal Taranto è fondamentale. Parlando di diritti, di diritto al lavoro, di diritto alla salute, diritto all'ambiente, che sono tre istanze fondamentali che sono intrinseche in quello che è il territorio di Taranto da sempre. Giù tutti i problemi, giù tutti i rancori e mettersi tutti insieme per poter arrivare al 25 settembre e provare a vincere queste elezioni molto difficili che si stanno costruendo soprattutto sull'odio e non sulla politica.